Ma devo essere sincero, qui esaliamo un tantino, io ho l'unica nota positiva di questa città, mamma mia, rischia di diventare una risposta politica, l'ho vissuta in questa sorta di riappropriazione del mare. Le strutture portuali hanno sempre operato una sorta di separatezza fra la città e il mare, un ostacolo. Lo sgabbiamento stesso della cala, il fatto che abbia assunto questa vocazione turistica, l'apertura dal castello a mare per esempio, oggi come oggi ti permette, anche così da banale fruitore, di fare una passeggiata e interagire con questa nuova maniera di vivere il rapporto con il mare rappresentato dalla barca d'arrecata, dallo sluppe, dalla valla Marconi rispetto a quella di una volta, che non sarebbe assurdo, non tanto assurdo rispolverare per alcuni versi. Io ho sempre sognato una cosa, mi porto dietro alcuni modelli che magari ho visto molto lontani all'estero. Togliere il traffico commerciale dal porto, sbatterlo a termini, sbatterlo proprio nel senso più buono della parola, riaprire del porto alla fruizione della città e invocando per quest'area una vocazione turistica e quant'altro.